Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Clash of Clans Bene, allora ho cambiato modo di registrare perché dall'iPhone era veramente impossibile E ho deciso di usare l'iPad, quindi lagga di meno Però non so la qualità video, nel senso ho cambiato le dimensioni di registrazione Dato che sto su un iPad e quindi non so se si vedrà bene quando lo caricherò su YouTube In tutti i casi farò delle prove e tenterò di mettere a fuoco il tutto Comunque vi faccio vedere i miei progressi negli ultimi giorni Sono stati portare la prima cerchia di mura al 7 e adesso sto portando la seconda cerchia di mura appunto sempre al 7 Finito questa al 7 passeremo con le mura all'8 Queste ovviamente sono abbastanza inutili portarle avanti Perché tanto non si andranno mai a scontrare con degli spaccamuro tranne in rari casi E quindi preferisco prima portarmi avanti queste Sto usando l'Elisir in modo tale da non sprecare l'oro che mi serve per portare su tutte le varie difese Ho portato su tutti i cannoni a livello 11 Adesso porterò su tutte le difese aeree a livello 6 Non so se portarle a livello 7 oppure passare direttamente alle torri degli stregoni al 7 Ditemelo voi magari se avete qualche idea da propormi fatemelo sapere In tutti i casi oggi sono qui per fare un video di Clash of Clans perché Diciamo mi li chiedete abbastanza spesso ma io non li faccio mai A parte che diciamo perché non ho argomenti interessanti da proporvi Bene oggi forse ne ho trovato uno nel senso faremo un attacco con solo Barbari Andiamo subito a trovare una partita Spero di trovarla subito poi nel caso faremo magari un taglio Voglio provarvi, voglio diciamo vedere come vanno queste serie Facendo attacchi con soltanto una truppa Quindi non lo so Ecco questo per esempio è già abbastanza simpatico Perché è simpatico? Perché Ha questo che è abbastanza Si può abbastanza distruggere Sicuramente prenderemo una stella Andremo a prendere questo deposito d'oro Potremmo anche puntare a fare due stelle Bensì il 50% Arrivare qua dentro è impossibile con le truppe che ho adesso Ma se riusciamo a scoppiare questo mortaio con i nostri fantastici fulmini La partita si mette dalla nostra posizione Quindi vediamo Ci proviamo subito Speriamo di esserci riusciti Esatto ci siamo riusciti Questa torre dello stregone la butteremo giù solamente con la nostra fantastica regina Adesso tento un po' di fare un po' di casino qua Quindi mettere tante truppe da questa parte Ecco può andare avanti loro E adesso attivare la regina Appena sarà possibile attiveremo il potere della regina Ecco appena distrutto quello perfetto Speriamo la regina ci vada a tankare subito quello Non si dai 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 L'abbiamo distrutto ottimo Adesso ci andiamo a prendere tutti i vari bottini Se riusciamo a distruggere queste mura Siamo a posto Andiamo a distruggere qua E tentare di fare il 50% Non è veramente facile? Ah non avevo calcolato il fatto che ci potessero essere delle truppe Ma le uccideremo sicuramente Adesso continuiamo a distruggere questo Voglio il 50% E penso anche di potermelo ottenere abbastanza No non facilmente ma Non penso sia difficile Ho ancora diverse truppe da utilizzare La regina degli arcieri ha ancora tutta la vita E abbiamo apparentemente distrutto le varie truppe Adesso Questi mi stanno facendo soltanto da scudo Distrutto questa? Bene adesso ci andiamo a prendere dell'altro elisir Ottimo Siamo al 37% Non so quanto dureremo Attualmente possiamo usare una Eh queste mi muoiono le truppe lì Ok distrutte tutte le truppe E purtroppo mi è morta la regina Ma il 50% è praticamente nostro Perché mi mancano pochissime infrastrutture Eccole qua siamo al 49 E 50% Ottimo Abbiamo ottenuto diversi trofei Non so quante risorse Vediamo Terminiamo il nostro attacco Abbiamo ottenuto ben 11 trofei E sì Non sono molte le risorse Ma per L'impegno di truppe va bene Adesso mi rifaccio tutte le truppe E ecco Siamo finalmente in oro 1 Siamo finalmente insomma C'ero dentro Non avevo fatto l'attacco Non ho fatto l'attacco Per Volevo aspettare Insomma per fare il primo attacco Ecco Rimettiamo a fare i due incantesimi Portiamo su tutti i vari barbari Ecco qua Portiamo le caserme al massimo Aspetto adesso che si ricreano i vari barbari E partiamo subito con il secondo attacco Penso il video sia venuto anche fuori senza lag È fantastico E adesso con queste truppe è abbastanza semplice Poi inizieremo a fare magari Attacchi più complicati Magari Dovrò aspettare un po' di tempo Perché appunto la regina degli arcieri Ha 54 minuti di rigenerazione E un'ora Per creare i due incantesimi Comunque Ci vediamo tra pochissimo Bene Secondo villaggio trovato E questo è un inattivo Per eccellenza Tutti i depositi pieni E Non sarà difficile Fargli un bel 50% Perché Potremmo vincere solo con il 50% Dato che entrarli Inizia ad essere abbastanza difficile In tutti i casi possiamo iniziare subito A martellargli magari Un Un Mortaio Eccolo qua Vediamo i risultati Martellato alla grande E adesso possiamo iniziare a far scendere i nostri barbari Ecco Fargli entrare qui Alla grande Ecco Fuori dalla portata Ecco questo mortaio però Dobbiamo Purtroppo Subircelo Qui E facciamo Mettiamoli tutti a cerchio Dobbiamo insistere molto su questo versante Ecco Speriamo che riescano a rompere presto i nostri fantastici barbari Il muro Ecco Entrati Adesso scagliamo giù la regina con il power A subito al massimo Ecco Adesso si fionda a distruggere la torre degli arcieri Sia la torre dello stregone Perfetto Adesso ci andiamo A fiondare di qua Tentiamo di invaderli lì Perfetto Dobbiamo invadere in questo punto Adesso anche qui Andiamo a prenderci altre risorse Dobbiamo sfondare anche qua Speriamo di riuscirci Adesso buttiamo giù la seconda torre dello stregone Siamo entrati anche qui E il municipio è nostro ormai Riusciremo a fargli anche un bel 50% Più un municipio Quasi sicuramente Eh sì Il municipio è nostro ormai Non c'è via di scampo per lui Adesso possiamo tentare di sfondare qua Esattamente Bene 50% ottenuto Speriamo di ottenere Ma quasi sicuramente otterremo Eccolo qua Che è ottimo Non penso di riuscire Mettiamo una bella Elisir Sì un incantesimo di cura qua Per i fantastici nostri barbari Che ci vanno a razziare le ultime risorse Ce ne manca una lì Ma non penso riusciremo a prendercela La regina non ha subito neanche tanti danni Vediamo di finire ora Di distruggergli il re barbaro E prenderci le nostre ultime risorse Mandiamo i barbari in aiuto della regina Magari da questa direzione A prendere Dell'elisir nero Che ha sicuramente negli estrattori Che l'elisir ci fa sempre comodo Detto questo Bene Aspettiamo che finisca l'attacco Ecco qua che ci vanno a prendere tutto l'elisir nero Ci ne mancano soltanto due che stanno contenute nel deposito Che non possiamo prendere E abbiamo diciamo razziato diverse risorse E ci siamo fatti diversi trofei insomma Finiamo Abbiamo distrutto la difesa aerea Adesso ci moriranno ovviamente tutti i nostri barbari Che sono a livello 6 Provvederemo a portarli a livello 7 Perché sono molto resistenti Peccato non sono riusciti Eccolo l'hanno distrutto Fantastici Bene Questo è il bottino Non male direi Per anche per 13 trofei Per questo episodio è tutto Io spero che l'episodio vi sia piaciuto Questa serie potrebbe avere Diciamo Una bel futuro Adesso provvederò A fare una puntata sul solo archi Poi consigliatemi voi Magari se volete vedere Dei nuovi Video Se avete delle truppe Diciamo che volete Che io tratti particolarmente Fatemelo sapere Io vi invito nuovamente A lasciare un mi piace Di iscrivervi al canale Se non avete già fatto Di commentare il video Con Scrivendo quello Che vi ho detto Diciamo se avete truppe che preferite E volete che ci faccia un video Di condividere il video su facebook O su altri social network Per farmi conoscere ad altre nuove persone Io ho detto questo Vi ringrazio nuovamente per la visione E vi aspetto al prossimo episodio Ciao a tutti ragazzi